Sento quello che poi vi dirò subito sul seguito di questo lavoro. Sono delle voci fuoriscena fasciste, i fascisti sono fuoriscena, sono Farinacci e sono dei deputati fascisti che interrompono, parlano e cercano di impedire la parola di Matteotti fuoriscena. Gli altri personaggi che abbiamo voluto valorizzare sono quelli di Veglia, Titta Matteotti e di Filippo Turati che entrano come interlocutori scenici di questa cosa. Devo dire che all'idea originaria di questo testo c'è stato poi un arricchimento che è dato non soltanto dalla riproduzione che penso a molti interesserà del discorso come ratifico e l'onorativo ottenuto il 27 giugno del 1924 da Filippo Turati ai deputati dell'opposizione ma anche due contributi veramente importanti secondo me e da non sottovalutare nella presenza di questo libro. Uno di Filippo di Gregorio, Matteotti, Parlamento e Terra che offre un'interpretazione molto acuta che io ho apprezzato moltissimo e che sono convinto che voi apprezzerete della figura di Matteotti rispetto al contesto politico dell'epoca della sua scomparsa e comunque dell'inizio degli anni venti e un preziosissimo contributo di Valeria Cattaneo che nell'ambito delle sue ricerche ha ritrovato un testo di un sindacalista e socialista tedesco del 10 giugno 1932 che in occasione dell'anniversario della morte di Matteotti scrive, abbiamo la traduzione, l'eccellente traduzione di Valeria Cattaneo scrive come i tedeschi avrebbero dovuto fare una grandissima attenzione a quello che era successo in Italia con l'avvento del regime fascista anche attraverso lo snodo storico dell'assassino di Matteotti perché era un dato storico rilevanissimo. Ecco, questo poi Pasquale Cardis ve lo dirà meglio avviandomi io a concludere con alcune considerazioni. Noi abbiamo pensato di inserire la corresponsione di questo testo nella logica della protrazione delle nostre attività che vi proponiamo e di una sottoscrizione per il 2024. Come vi dicevo ed è poi il tema che volevo sottoporre, inevitabilmente noi abbiamo una prospettiva che va di fatto e vorremmo condividerla con l'Assemblea al di là del 10 giugno del 2024. Allora intanto vi avviso di alcune cose che avverranno. Il 16 aprile, che è martedì, alle 15.30, alle 15.30, alle 15.00 al Carducci, quindi Viale Cavallotti, martedì pomeriggio alle 15.00 al Carducci in Viale Cavallotti ci sarà una conferenza organizzata all'Università Popolare su Giacomo Matteotti prima e dopo il 10 giugno 1924 che mi è stato chiesto all'Università Popolare di tenere per gli iscritti all'Università Popolare. Ho parlato con gli organizzatori, questo ve lo segnalo, magari lo segnaleremo anche nella nostra chat, è aperto alla partecipazione di altri cittadini interessati, quindi ve lo dico perché ci fosse qualcuno interessato gli possiamo segnalare questa ricorrenza. Abbiamo una ipotesi, ce l'ha fornita il compagno Altergatti, di una serata ai Lions, nel quale come sapete lui è attivo, dedicata alla figura di Giacomo Matteotti, dovrebbe andare oltre giugno, non aspettiamo di avere una data. C'è poi una scadenza importante, questa è prima però potrebbe produrre esiti anche ulteriori. Il 28 aprile a Dongo voi sapete che c'è sempre questa vicenda storica, chiamiamola così, della manifestazione fascista e della contramanifestazione. L'Ampi di Dongo quest'anno ha assunto un'iniziativa di tipo diverso, cioè staccandosi semplicemente da questo confronto che pure ci sarà, mi pare di capire, nel pomeriggio del 28 a Dongo organizza un'iniziativa di tipo puramente politico-culturale, quindi non staccata dalla contramanifestazione rispetto a quella fascista, in cui è molto importante, in cui verrà presentato il libro di Federico Fornaro Giacomo Matteotti, l'Italia migliore e sarà presente l'autore, dobbiamo ringraziare Chiara Braga che ha istituito i rapporti con il collega parlamentare Federico Fornaro. Ci sarà Anna Steiner, pronipote di Giacomo Matteotti, che porterà la nostra testimonianza Anna Steiner non soltanto come pronipote di Matteotti, ma anche come figlia di due protagonisti della Resistenza, quindi sarà un pomeriggio ricco. Con il consiglio direttivo ci siamo consultati, abbiamo ritenuto di non, in particolare io che ero invitato a partecipare a questa manifestazione e a questo convegno come relatore, invece di devolvere questa partecipazione a uno dei nostri più giovani iscritti che è Tommaso Fasola, che ricordiamo già aver tenuto un bellissimo discorso in occasione della celebrazione ultima del 25 aprile e quindi sarà presente Tommaso Fasola come relatore per il comitato. A proposito di 25 aprile abbiamo avuto come comitato l'invito dal comune di Senna Comasco in persona della sindaca Francesca Curtale perché il 25 aprile ci sarà la celebrazione del 25 aprile a Senna e a seguire la cerimonia di intitolazione del parco pubblico di Via Rovelli a Giacomo Matteotti. Voi ricordate che noi abbiamo assunto come comitato un'iniziativa sulla toponomastica sollecitando tutti i comuni, abbiamo avuto una quarantina di risposte, poi le impacchettiamo per così dire e ve le forniamo su un file, abbiamo avuto una quarantina di risposte, alcune anche devo dire molto sentite, molto entusiastiche da parte di amministrazioni comunali che hanno o hanno in animo di dedicare strade e luoghi memorabili a Giacomo Matteotti. Il comune di Senna Comasco si è fatto parte attiva, diretta per questa importante intitolazione. Allora siccome vorremmo avere invece contestualmente una delegazione del comitato alla manifestazione del 25 aprile di Como e quindi ci siamo organizzati in questo modo, io parteciperò all'apertura delle iniziative e a Senna Comasco poi verrò a Como con gli altri compagni e ovviamente l'invito è per tutti, è quello di fare delegazione in gruppo a parte il consiglio direttivo al 25 aprile di Como e alla cerimonia di intitolazione di Senna Comasco sarà delegato per il comitato Romolo Vivarelli che è stato molto attivo anche nel gestire questa attività. Parlando delle cose che accadranno dopo, intanto vorremmo che l'opinione dell'Assemblea sulla ipotesi di un contatto con l'amministrazione comunale di Como per poter tenere una, ovviamente piccola, non siamo a...